Siamo qui con Viglianisi e Fazio, capitano migliore in campo della formazione del canizzaro ceramiche. Allora capitano, un angiurizio sulla partita di oggi? Abbiamo fatto un'ottima gara, tutto sommato a centrocampo, abbiamo Peppe, giustamente, come hai detto tu, migliore in campo. Parliamoci chiaro, l'uomo in più della squadra. 16 punti? Così dove volete arrivare? Noi per ora non vogliamo arrivare da nessuna parte, camminiamo con la testa alta, piedi per terra, quello che ci dà il campo ci prendiamo. Oltre al risultato un'ottima prestazione, avete fatto calcio spettacolo, possiamo ben dirlo. Abbiamo fatto un ottimo calcio, ti ripeto, Peppe, sia Antonio che Antonio Contrò, comunque un ottimo calcio. Passiamo al migliore in campo. Buonasera. Allora, ottima partita, assist, l'uomo in più a centrocampo, comunque oltre ai gol. Ma io direi che tutta la squadra oggi ha giocato benissimo, non mi va di sentirmi dire di essere stato il migliore in campo, perché la squadra oggi ha giocato benissimo. Da Fabio ad Antonio Ranno che ha fatto una bellissima partita, senza poi dimenticare Arcangelo che ha giocato benissimo, insieme ad Antonio, Giuseppe, tutti quanti. Una bella squadra. Faccio a te la stessa domanda, 16 punti in campionato, dove volete arrivare? Ma io dico sempre che per vincere questo torneo devi vincere quattro partite, ottavi, quarti, semifinale, se Dio vuole la finale. Il girone sono partiti a sé, non c'è niente di predefinito. Va bene, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.